Buongiorno Vignani per Discopri Abruzzo Magazine, siamo qui da Castelli, paese della ceramica, meglio della maiolica, in compagnia del sindaco del paese, Fernando Sita. Buongiorno a voi. Il vostro paese è comunque attualmente il portatore della tradizione della ceramica in Abruzzo, anche in virtù del suo territorio e delle sue caratteristiche, della presenza di argilla, della presenza del fiume, dove ci sono anche materiali che vengono utilizzati per questa antica tradizione, per questa attività artigiana. Attualmente, com'è la situazione? Ci parli brevemente della ceramica qui a Castelli. Allora, sì, Castelli è erede di una tradizione secolare, parliamo di 500 anni di artigianato di eccellenza. La tradizione, quindi, si è sviluppata sicuramente grazie a fenomeni naturali, come diceva lei, ma, innanzitutto, la presenza dell'argilla, quindi negli anni 70 c'era un'attività estrattiva che è visibile, insomma, dai calanchi, dalle colline che sono appunto scavate, poi la presenza dei fiumi, della foresta per alimentare i forni. Quindi si è sviluppata questa arte a testimonianza dell'eccellenza di questa arte, e le ceramiche di Castelli sono presenti nei principali musei del mondo, nell'Italia, c'è il British, al Metropolitano, ovunque c'è una testimonianza di Castelli. Per l'appunto, Castelli è, insomma, meritoriamente, è una delle principali centri di ceramica, ne facciamo parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, e, insomma, siamo riconosciuti tra i centri più importanti. Venendo ad oggi, il settore è in profonde difficoltà, è in difficoltà sicuramente dal 2008, la crisi economica che ha investito il mondo, diciamo, fa di meno che di mano, adesso in poi, un settore come l'artigiano ha subito difficoltà, e poi sono stati i terremoti, il terremoto è del 2009, è del 2016. Qualmente le giovani generazioni sono ancora vicine a questa tradizione, oppure purtroppo si sta allontanando? Allora, è una tradizione che storicamente si è sempre ereditata di padre e figlio. Oggi di meno, però comunque sono ancora diversi ragazzi che continuano l'attività di famiglia. Sicuramente di meno perché, ripeto, i volumi d'affari sono ridotti, quindi di conseguenza anche le nuove imprese. Voi avete avuto anche delle giovazioni, per la recente terremoto che c'è stato, anche per le imposte. Sì. Questa situazione, ma adesso a breve terminerà questo stato di, diciamo, di impasse, e si rischia, per l'economia castellana, si rischia il default, se è corretto così. Sì, allora, a seguito del 2009 sono spensione e il pagamento dei tributi, di tutti i tributi. Poi successivamente sono stati richiesti indietro, nella misura del 60%, spalmati in 10 anni. A seguito di questa misura, insomma, decisa dal governo italiano, la Comunità Europea, ha aperto una procedura di infrazione. E di conseguenza oggi c'è un commissario che sta attivando, si sta attivando per recuperare quel 40% che comunque, lecitamente, non è stato pagato all'impresa. Questo rischia davvero di mettere in grande difficoltà un'economia che, dopo tutti questi terremoti, sta, orgogliosamente, dopo molta difficoltà ripartendo, rischia davvero di metterci in ginocchio. Voi puntate molto sul turismo, sul trinaccio, anche per il turismo della vostra realtà. Ma Castelli è un piccolo comune, un piccolo borgo, ci sono mille anni, ma anche, diciamo, gli anni più fiorenti non abbiamo superato i 3.000 abitanti. È un piccolo centro che ha sempre vissuto di questo, di questo dell'artigianato e anche del turismo, sia per le meraviglie artistiche che si possono godere, ma anche per uno scenario naturalistico, meraviglioso, diciamo, qui, i piedi di Gran Sasso, la parete nord, lo specifico del Monte Canicia, che è meta di escursionisti, sia, diciamo, neofiti, ma anche alpinisti esperti, quindi è meta a vita totalmente dal mondo. Avete da un lato la passeggia del Belvedere da Falindola, da Ricopiano, fino a qui, e dalla tua parte vede il Santuario di Santa Prieta. Esattamente. Se non può come un piccolo centro, un piccolo borgo incantato sotto la montagna. Esattamente, Castelli è proprio un croceria tra il santuario, che è sicuramente un attrattore religioso tra i principali d'Italia, uno dei santuari più visitati, e poi, appunto, dall'altro versante c'è il Pescarese, con Ricopiano, Farina, ma c'è anche il Castante Aquilano, con il Santo Stefano di Sessani, Castello del Monte, quindi ci troviamo in un distretto, in un comprensorio turistico molto attraente, per l'appunto, anche se con difficoltà, con tutte le viabilità che fanno comunque... Lei è un giovane sindaco, crede nel rilancio del Paese? Io sì, assolutamente sì, credo nel rilancio del Paese, perché Castelli ha un appeal così forte, anche con certe difficoltà, ancora oggi si registrano presenze, noi quest'anno da Pasqua abbiamo avuto parecchi visitatori, speriamo che sia appunto una cartiera tornasola di quella che poi sarà la stagione estiva. Io ci credo fortemente, però c'è bisogno di un forte aiuto per questi territori. Secondo lei il centro storico tornerà abitato o ci sarà delle organizzazioni della città come avvenuto in altre parti, dove sono stati dei sismi? Allora, il centro storico è sicuramente tornare abitato. A seguito del terremoto di 2009 è stata una grossa discussione in Paese, sia politica ma anche civile, sull'idea di delocalizzare o meno. La strada che si è percosa sia a livello politico-amministrativo ma anche cittadino è quella di recuperare un borgo, un borgo medievale, un borgo che comunque rappresenta la nostra storia e da lì vogliamo ripartire. Cioè, di localizzare i castelli in altro luogo non ha nessun senso. Ringraziamo Renato Seca e Cristiano Miglia di tutto per il disco per la introduzione. Grazie a te.